Sarà una scrittrice americana, una moderna mecenate, a restaurare il tondo del signorelli che è conservato qui al Mike di Cortona e così il legame tra la cittadina etrusca della Valdichiana e l'America si consolida. La storia di Victoria Smith, americana originaria di Chicago, si lega a Cortona e alla Toscana grazie ad un libro che si intitola The Little Lark Still Sings. La lodolina canta ancora. Dalla prima estate in cui ci siamo trasferiti qui, viviamo qui da 15 anni e prima ancora di comprare una casa abbiamo imparato molto presto, quanto poco sapevamo, dell'Italia e di noi stessi e anche del nostro matrimonio. Quindi abbiamo fatto molte cose meravigliose, abbiamo avuto anche molte discussioni che non erano poi così meravigliose e ho preso appunti per tutta l'estate. Avevo circa 600 pagine di appunti e alla fine ho deciso di scrivere un libro. Per lei e per il marito, grazie all'impegno nella ristrutturazione del casale, si è creato un effetto di simbiosi con la dimensione italiana, un nuovo stile di vita che trova la sua declinazione in quella identità toscana che si respira nella vita quotidiana cortonese. Da qui la volontà di restaurare il tondo di Luca Signorelli con una parte dei proventi della vendita del libro. Dunque l'opera non è in pessime condizioni di conservazione, lo si vede abbastanza chiaramente. È necessaria però un intervento di ripulitura, di sistemazione, di regolamentazione di alcune parti delle tavole che compongono il quadro che presentano dei sollevamenti di colore e dei leggeri movimenti dovuti appunto al tempo. Quindi una volta sistemate queste piccole difficoltà della pittura, il quadro recupererà completamente la sua originalità e la sua bellezza. Ancora l'America e Cortona che si legano. Sì, ormai è un sudalizio che va avanti da tantissimo tempo e è sempre più forte, si rafforza sempre di più questo legame che abbiamo con gli Stati Uniti anche perché molti degli ex studenti dell'Università della Georgia o comunque anche ex visitatori, turisti, si sono stabiliti nel nostro territorio permanentemente. Quindi questo ci fa particolarmente onore anche perché come si vede si legano proprio con il tessuto culturale della città. Siamo americani ma è un privilegio vivere in Italia. Quindi la decisione di finanziare l'opera del Signorelli è il vostro regalo a Cortona. È solo un piccolo grazie per tutto quello che abbiamo ricevuto.